Delinquenza, adesso è l'ora dell'insorgenza, tasse, giudici, delinquenza, adesso è l'ora dell'insorgenza. Di sinistra e di destra, che hanno favorito gli interessi solamente delle banche e dei grandi centri finanziari. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Stamattina siamo qui per dire basta a questo stato di integrato che abbiamo a Napoli al mondo del partito. Io sono un tifoso spinto. Quando una squadra di calcio perde, i primi a lasciare il campo devono essere gli allenatori. Nel nostro caso gli allenatori sono ben identificati. Sono l'ex sindaco di Napoli, oggi governatore della campagna a Passolino, l'attuale sindaco di Napoli, che dopo sette anni di promessa non ha risolto nessuno dei problemi gravi che garantiano la città. A questo punto hanno solo una strada, è quello di lasciare il campo ad alta. Il potere politico usuraio ha messo le mani nelle tasche dei cittadini lo svuotamento economico della reazione meridionale. Casse, rifiuti, delinquenza, adesso è l'ora dell'insorgenza! Casse, rifiuti, delinquenza, adesso è l'ora dell'insorgenza! Siamo qui non contro la Iervolino ma a favore della città perché già quando si protesta si rappresenta il fallimento delle istituzioni, di un sindaco assente, disinteressato ai problemi e purtroppo all'emergenza della città. Siamo qui per tutelare i diritti dei cittadini, per chiedere rispetto ai principi istituzionali e quindi a proprio il Presidente della Repubblica che si attivi per commissariare gli enti locali falliti, per mandare a casa a Bassolino, Iervolino, per restituire dignità e coraggio ai cittadini che non stivano a protestare. Si dovrebbero ordinare i politici per le condizioni in cui hanno lasciato la città. La città è la città, la città è la città, la città è la città! Simbolo dell'antico sud torna in piazza. Orgogliosi della piazza e l'insorgenza! Sommettiva tutto pulito, stiamo qui! Non ce la facciamo più, i pensionati non ce la fanno più, i pensionati a reddito minimo sotto dei 500 euro non ne parliamo, ma i pensionati normali, quelli che loro ritengono normali e ricchi, cioè i 700, 800, 900 euro, sono alla fame, sono ridotti veramente alla miseria, piangono, ma ci sono lagnanze che realmente fanno stare male chi vive la realtà e io sono compito di una cosa e su questo noi veniamo a protestare stamattina qua, che coloro i quali siedono al Palazzo San Giacomo, nel Palazzo della Regione, nel Palazzo della provincia hanno dimenticato di rappresentare la gente comune. Gli altri quartieri di Napoli ha avuto un altro sbocco, se non quello della rassegnazione, noi contro la rassegnazione insorgiamo e diciamo basta a questo stato di pazzo, i partiti sono da una parte, il popolo, i comunali, i commerciali, i cittadini onesti sono dall'alto, i partiti in questo momento sono arrivati a fare il corso di questo sistema, sono addirittura felici che il comune del governo. Poi che cosa chiedete? Il comune è dove si, abbiamo chiesto, con questa manifestazione abbiamo chiesto, con la qualità legge alla, diciamo, alla memostrazione, un'area che si basa per questa comunitaria che è la criminalità, che non è alto nel loro, lo specchio della criminalità più grande, che non ha più sede nelle strade in auri, ma nei palazzi del potere della politica. La criminalità di cui si combatte il Stato Palazzo, di cui si combatte il Stato Palazzo, di cui si combatte il sganizzato, con me, con il legato che c'è fatto, la criminalità e la politica non ha mai avuto, dura da 1161, che oggi è un cancro che sta volando in forma più grande. La criminalità è stata a spiegare tutti di sinistra e di destra, che hanno favorito gli interessi solamente delle banche e dei grandi centri finanziari. Giusto, 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 la politica usuraria. Contro la gest line e le usure bianche, questo è il momento di insomma. ...lo svuotamento economico della reazione meridionale, tasse... ...hanno avvalenato la terra, hanno contaminato il cuore... ...basta, tasse rifiuti del rinconso, adesso è l'ora dell'insorgenza... ...dasi rifiuti del rinconso, adesso è l'ora dell'insorgenza... ...dasi rifiuti del rinconso, adesso è l'ora dell'insorgenza... ...di sbredondetica, stanno chiedendo, la partiziazione è stata abbastanza più. ...di somme delle banche e dei grandi centri finanziari. Con il sistema delle discussioni usuraie... ...hanno messo le tasche....hanno messo le mani nelle tasche dei cittadini. Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 www.mesmerism.info